E' stato prorogato al 16 giugno 2024 l'accordo di collaborazione per supporto tecnico nel percorso di risanamento finanziario tra il Comune di Patti e IFEL, Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tale attività di supporto prevede l'individuazione delle problematiche, avvio o gestione del rientro finanziario e la formulazione delle linee di soluzione da parte della Task Force di esperti. IFEL ha individuato il Comune di i patti come partner dell'accordo di collaborazione che risale al 9 maggio scorso perché il Comune ha caratteristiche relative ad alcuni elementi costitutivi quali popolazione, collocazione geografica e storia finanziaria recente che devono dirsi, oltre che di particolari interessi, perfettamente congruenti con i requisiti progettuali. Il 23 settembre 2020 IFEL ha sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno una convenzione per perfezionare un piano pluriennale di intervento sulla prevenzione e gestione delle crisi finanziarie, per affrontare le problematiche finanziarie di contesto che sono alla base dei fenomeni del dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale, fornendo strumenti di supporto per gli enti a rischio di crisi o crisi conclamata, anche attraverso attività di affiancamento. Il piano prevede la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con funzioni di progettazione e programmazione delle attività, coordinamento della fase operativa connessa alla formazione di gruppi di lavoro territoriali finalizzati alla soluzione di situazioni di criticità finanziaria. Dal 2021 IFEL, affiancato dal Comitato Tecnico-Scientifico e dal Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, fornisce supporto diretto nel percorso di risanamento finanziario a un gruppo ristretto di comuni individuati per la presenza di ragioni di particolare interesse o complessità rilevanti ai fini del piano per le difficoltà nell'avvio nella gestione del programma di rientro. Attivando una task force di esperti, si cerca di individuare le problematiche e fornire le proposte di soluzione. In particolare, muovendo dallo studio della situazione finanziaria e organizzativa del Comune, perverrà alla formulazione di raccomandazioni finali e alla redazione di una relazione conclusiva sull'attività svolta.